Gli audio racconti, serie, i gialli di Natale, Solar Pons e l'avventura dei due collezionisti di August Derlet, letto da Dan Questo Natale, disse Solar Pons in piedi davanti ad una finestra del nostro appartamento al 7B di Pride Street promette d'essere davvero piacevole dopo la tranquilla settimana appena trascorsa Fiocchi di neve danzano nell'aria e ciò che vedo in strada mi incanta Venite qui Parker, date un'occhiata Posai il libro che stavo leggendo e lo raggiunsi Fuori, fiocchi larghi e soffici velavano il lampione che si era acceso presto in quel crepuscolo d'inverno e avvolgevano, come una visione del passato, la scena sotto la nostra finestra Una carrozzella a due ruote, niente di meno Tirata da un cavallo che sembrava antico quasi quanto il veicolo Perché se ne stava lì, tutto avvilito, a testa bassa Mentre un uomo scendeva da cassetta appoggiandosi ad un bastone Erano anni che non vedevo una carrozzella come quella Dissi Almeno dieci, se non di più E quel tizio deve certamente essere il suo proprietario L'uomo sceso dalla carrozza era visibile solo confusamente Ma indossava un cappotto lungo fino alle caviglie Che aderiva alla sua figura sottile quasi come una seconda pelle E un vecchio berretto di castoro Che aggiungeva la propria altezza a quella di lui Quando alzò il viso per guardare il numero sopra il nostro portone Vidi che aveva una barba brizzolata E portava gli occhiali dalla montatura quadrata È possibile che abbia sbagliato indirizzo? Domandai Spero ardentemente di no Disse Pons Forse ha sbagliato il secolo Ma non certo l'indirizzo Infatti sta entrando Magnifico, magnifico Esclamò il mio amico Fregandosi le mani E voltandosi con aria speranzosa verso la porta Ascoltammo in silenzio Mentre lo sconosciuto Parlava al pian terreno con la signora Johnson La nostra padrona di casa Poi saliva le scale Un po' affannosamente Ma con una sveltezza più da giovane che da vegliardo Però si appoggia alla ringhiera Disse Pons come se mi avesse letto nel pensiero Le sente le unghie che grattano contro la parete Al primo colpetto di bastone contro la porta Pons si precipitò ad aprirla Il signor Solar Pons Chiese il nostro visitatore Con una voce vissuta e un po' querula Prego signore Si accomodi Disse Pons Prima di farlo voglio sapere Quanto mi costerà Dichiarò il nostro cliente L'ingresso è gratuito Fece Pons Con gli occhi che gli scintillavano Si paga tutto di questi tempi Si lagnò il vecchio Entrando nel nostro soggiorno Il denaro non ti viene in tasca facilmente E ne salta fuori troppo alla svelta signore Troppo alla svelta Gli offrì una sedia E presi il suo cappello Portava Lo vedevo adesso Un paio di mezzi guanti Del tipo usato solitamente dagli impiegati Di quelli che vanno dai polsi alle nocche Come se si accorgesse soltanto allora di me Mi indicò col bastone E chiese a Pons Questo chi è? Il dottor Parker Mio amico e collaboratore Il vecchio mi squadrò sospettosamente dall'alto al basso Spingendo in fuori le labbra sottili e risucchiandole Mentre i suoi occhi si restringevano Aveva la pelle color pergamena E i suoi abiti come il cappello Tiravano al verde per l'età Ma ora lei è in vantaggio su di noi signore Osservò Pons Poiché non ci ha fatto ancora l'onore Di dirci il suo nome Mi chiamo Ebenezer Snowley Annunciò il vecchio Poi si voltò verso di me E tese in avanti un braccio Sono di Pip Disse riferendosi ai mezzi guanti Lui non ne ha bisogno È in casa Mentre io sono fuori E sarebbe una vergogna Sprecare del buon danaro in guanti Per le poche volte che esco con un tempo simile I suoi occhi si strinsero un tantino di più Lei è un medico? Domandò Risposi di sì Dia un'occhiata a questo, dottore Disse Indicando una piccola escrescenza su un dito La esaminai E diagnosticai Un porro incipiente Allora non è un pericolo per la mia salute Grazie, dottore Poiché non siamo nel suo studio È ovvio che non vorrà essere pagato Il dottor Parker è un uomo povero Signor Snowley Disse Ponce Io pure, signore Io pure Ma ho dovuto venire da lei Aggiunse con voce angosciata La polizia non ha fatto altro che ridermi in faccia Mi ero rivolto a loro prima Per far cessare questa dannata molestia Che genere di molestia? Domandò Ponce Aha Non mi ha detto quanto vuole per la consultazione Disse Snowley Sono abituato a stabilire il compenso Secondo la quantità di lavoro che devo fare In alcuni casi Non pretendo alcun pagamento Nessun onorario? Proprio niente di niente All'occasione ci lasciamo prendere Dallo spirito del Natale Scherzò Ponce Ah, Natale Tutte fandonie Ringhiò il nostro cliente Non dica così Natale è fatto perché degli sciocchi benintenzionati Sprechino quattrini in regali inutili Per altri sciocchi Insistette il nostro cliente Ma lei non è venuto qui per parlare delle feste Disse gentilmente Ponce No, è vero Ha fatto bene a ricordarmelo Sono venuto perché ultimamente Sono infastidito da un tizio Che passa e ripassa davanti a casa mia Lanciando grida da venditore ambulante Ma sono grida offensive? Il nostro ospite scosse la testa stiziosamente Tutte lo sono se non vuoi sentirle Scurrili? Grida da venditore ambulante, ho detto Ne conosce le parole? Certo, signor Ponce Se non le conosco io Schiacciale e provale prima di comprarle Otto per un penny Le belle noci Schiacciale e provale prima di comprarle Cento per uno scellino Le belle noci E poi quell'altra Stuoie e zerbini Contro il fango e la polvere e i rimedi sovrani Pensate allo sporco che vi portate in casa Se non avete zerbini per pulirvi i piedi Ecco, se le conosco Sono vecchie grida Tipiche dei venditori ambulanti londinesi Ora gli occhi di Ponce Splendevano di piacere Dunque vende noci e stuoie? Vende di tutto quello A volte sono cappelli Tre o quattro insieme sulla testa A volte è focaccia O fiori E più spesso noci Non potrei masticarle Nemmeno se le comprassi E questo è poco probabile Non spreco quattrini così io Molto poco probabile Beh, signor Snoli La strada è di tutti Osservò Ponce Ma lui si limita al pezzo di strada Lungo la mia proprietà La mia è una casa d'angolo Un po' arretrata rispetto alla strada Con un pezzettino di terra intorno Io ci tengo, signor Ponce Alla mia intimità Beh, quel tipo Non va oltre il limite Della mia proprietà da un lato Torna indietro Gira l'angolo E arriva all'altra estremità Sempre così È tutto solo per darmi fastidio O qualche altra ragione Magari per penetrare in casa mia E mettere le mani sui miei valori Non potrebbe davvero usare Un sistema più chiassoso Se volesse davvero svaliggiarle casa Disse Ponce pensosamente Forse sente soltanto Lo spirito del Natale E quello è il suo modo Di fargli gli auguri Ah, Natale Fandonie Ripete Snoli in tono cupo E con una smorfia tale Che non avrebbe potuto essere più feroce Anche se l'avesse provata E riprovata Davanti ad uno specchio È giovane? Chiese Ponce Se un giovane Avesse una voce così gracchiante Lo manderei diritto da un dottore Scosse la testa con forza No Deve essere sulla mezza età Come minimo Con una voce simile Ah Farebbe marcire le mele in un barile Con che frequenza si presenta? Quasi ogni sera Accidenti Sono tormentato dalla sua voce Dalla sua stessa presenza Ed ora ha anche cominciato ad aggiungere Canzoni di Natale al suo repertorio Il che è ancora più fastidioso Ma soprattutto sono ossessionato Lo confesso Dalla curiosità di sapere perché Mi dedica tanta attenzione Ho mandato fuori Pip Pip è il mio impiegato Impiegato a riposo ora Come me Con la moglie morta E i figli che si sono fatti la propria vita Anche il più giovane Che alla fine Ha recuperato la salute Ho mandato fuori Pip Dicevo A dirgli di andarsene Ma quello gli ha reso in faccia Dandogli un paio di noci per sé Ed una per me Che impudenza Quella estofante I pochi peli sul mento Del signor Snowley Tremarono letteralmente Per l'indignazione Ponce aveva incrociato Le braccia sul petto Stringendo i gomiti Con le dita sottili E trattenendo il sorriso Che gli danzava sulla bocca Ed intorno agli occhi Ma Disse Controllandosi visibilmente Se lei è povero È difficile che possieda oggetti Abbastanza preziosi Da far gola a qualcuno Ora il nostro cliente Apparve chiaramente diviso Tra il desiderio di conservare La maschera Che aveva scelto di mettersi E quello di sollevarla un tantino Per darci un'idea più precisa Della situazione Perciò Sedeva in un cupo silenzio A meno che Continuò Ponce Lei non possieda valori Di natura più intangibile Io sospetto che lei Sia un collezionista Il nostro ospite Sussultò violentemente Perché dice questo? Vedo che la sua giacca Risale come minimo Al 1890 E così pure il panciotto Il bastone Ha il pomodoro Non ne vedo uno simile Dal 1910 Presse a poco Pesante anche Sospetto che sia animato E quello che ha lasciato in strada È un pezzo d'epoca Ovviamente di sua proprietà Dato che lo guidava lei stesso Ed infine Nessuno che avesse portato Quegli indumenti con regolarità Da quando sono stati confezionati Potrebbe averli ancora In così buone condizioni Lei è acuto proprio come mi hanno detto Brontolò il nostro cliente È vero Sono un collezionista Di libri Precisò Pons Libri e simili Assenti Snowley Anche se non pretendo Di capire come abbia fatto Di indovinarlo Inchiostro e carta Compongono Uno speciale odore di stantio Signor Snowley Lei lo portò addosso E aggiungo che deve essere Particolarmente appassionato Di Dickens La mascella di Snowley cadde E la sua bocca rimase Per un momento spalancata Poi Disse Sono sbalordito Il dottor Parker Mi accusa di averlo Mantenuto in tale stato Per due anni e mezzo Da quando alloggia qui Osservò Pons Non le farà male Ma lui non ne ha fatto Ma signor Pons Come ha capito di Dickens? Beh Quelle grida di venditori ambulanti Che lei conosce così bene Risalgono all'epoca di Dickens Se non le conosco io Ci ha tenuto a precisare Quindi non si può sbagliare Di molto il bersaglio Affermando che lei È un appassionato di Dickensiano Un freddo sorriso Sfiorò per un attimo Le labbra del nostro ospite Che subito lo represse Vedo che non ho commesso Un errore a venire qui da lei In realtà sarebbe compito Della polizia Ma gli sbirri passano il tempo A pensare come sottrarsi Ai loro doveri È così che va il mondo oggi Temo Ma avevo sentito parlare Della sua abilità E dopo averci riflettuto Per parecchi giorni Ho deciso che sarebbe stato Meno caro Venire io da lei Piuttosto che mandarla a chiamare Ed eccomi qui Ciò non di meno Gli fece osservare Pons Con gli occhi che luccicavano Dovremmo dare un'occhiata A quel tipo Che a suo dire Si sta rendendo Così insopportabile Snowley fece un rapido calcolo Come risultò evidente Dalla concentrazione del volto Allora è meglio Che veniate subito con me Disse Poiché se doveste venire In un altro momento Il prezzo del trasporto Andrebbe certamente Sul mio conto Per me va bene Rispose Pons Se il dottor Parker Non ha niente in contrario Snowley Agrottò la fronte Con apprensione Viene anche lui Certo Questo Aumenterà l'onorario No signor Snowley Allora d'accordo Andrò di sotto E aspetterò che scendiate Disse il nostro cliente Alzandosi in piedi E prendendo il suo cappello Dalla mensola del caminetto Dove l'aveva posato Proprio accanto alle lettere Cui Pons doveva ancora rispondere Spiegate e affisse alla cappa Con uno stiletto Ricordo di una delle sue avventure Il nostro cliente Era a stento Uscito dalla porta Che la risata Del mio amico esplose Quando si fu sfogato Mi domandò Cosa ne pensate Di quel tipo Parker Non ne ho mai visto Un uguale Risposi Economo Sospettoso E ho idea Nemmeno lontanamente Tanto povero Come vuole farci credere Magnifico Così è la natura umana Amico mio Il ricco finge la povertà E il povero la ricchezza Ma è ovvio Che il nostro Snowley Sia agiato Se ha una casa d'angolo E abbastanza spazio Perché a qualcuno Non finisca col girare la testa Camminando su e giù Da un'estremità all'altra Della sua proprietà Possiamo presumere Che il pezzetto di terra Per usare le sue parole Sia ben più Di quello che l'uomo comune Definirebbe tale Mentre parlava Pons si stava Infilando il cappotto E io pure Indossai il mio Quando presi La mia bombetta Lui si ficò in testa Il suo berretto Da cacciatore di cervi E in men che non si dica Eravamo giù in strada Dove il nostro equipaggio Attendeva Lungo il marciapiede Snowley mi fece salire Sulla carrozza Dietro di me Pons indugiò Un momento per domandare Quanto a lungo Quel venditore ambulante Si trattiene intorno A casa sua Due o tre ore per sera Pioggia nebbia O sereno E adesso Col Natale alle porte Suona anche una campanella Mi fa impazzire Signore Impazzire Concluso il nostro cliente In tono esasperato Pons si infilò In carrozza Snowley Chiuse lo sportello E salì a cassetta Ed eccoci partiti Verso Edgewood Road Poi Lambert Brixton Dalwich Sempre vedendo Davanti a noi Da ogni punto favorevole La cupola del palazzo Di cristallo E lungo tutta la strada Il colore E la gaiezza Di quelle giornate Torrenti di luce gialla Fluivano dai negozi Sui fiocchi di neve Che continuavano A cadere dolcemente Globi di vetro rossi Verdi Dorati E ogni sorta di decorazioni Circondavano le vetrine Vischio e agrifoglio Vendevano qua e là In mazzi e corone I banchi di coaster Offrivano frutta e verdura Carni e pesce Alberi di Natale Libri Vasellame a bom mercato E tappeti Dovunque Venditori ambulanti Con vassoi appesi al collo Offrivano a gran voce Le loro merci Chincaglieria natalizia Palloncini Scherzi Dolciumi E giornaletti Umoristici E vantavano i pregi Dell'almanacco Del vecchio mur Nei negozi di pollame Tacchini Oche E cacciagione Facevano venire L'acquolina in bocca Ai clienti ritardatari Poiché era L'antivigilia di Natale Solo poco più di due anni Erano trascorsi Dalla fine della grande guerra E tutta Londra Festeggiava la sua liberazione Dalle passate austerità I fiocchi che danzavano Nell'aria Riflettevano i colori Delle botteghe Ora rossi Ora gialli O rosa O azzurri O verde chiaro E creavano Larghi aloni Intorno ai lampioni Snowli evitava con cura La folla Nella misura del possibile E guidava con notevole abilità Ma dovunque passasse La gente si voltava A guardare L'antiquata carrozza I bambini Come gli oziosi a passeggio I poliziotti di ronda O le donnette con capponi e pudding Nelle borse di paglia Tutti sbalorditi Alla vista di quell'apparizione Proveniente da un altro secolo La nostra destinazione Risultò essere Upper Nervu La casa di Ebenezer Snowli Era un asimmetrico edificio Nello stile di Giacomo I Dominato da una torretta Con elisabettiane finestre Bovindo sulla facciata Sorgeva in mezzo ad un parco Che occupava L'angolo di un isolato E si estendeva Su buona parte di esso Un fioco parlume Filtrava dalle lampade Ai lati della porta All'interno invece Non si vedeva Nessuna luce L'intero quartiere Aveva un'aria Di nobiltà decaduta Ma la neve fitta E l'oscurità Che si andava addensando Contrastavano La luce dei lampioni Così che soltanto Quando fumo scesi Dalla carrozza La quale aveva percorso Un vialetto Su un lato del parco Fino ad una piccola rimessa Nell'angolo opposto A quello della strada E fummo così arrivati Davanti alla porta Ci accorgemmo Quanto anche la casa di Snowley Stesse andando in rovina Ma solo per mancanza di cure Perché essa risaliva Alla metà dell'epoca vittoriana E non era quindi Un edificio antico Contando poco più Di mezzo secolo Lasciando il cavallo Nel vialetto Dove il paziente animale Rimase a testa bassa Con una rassegnazione Nata dall'esperienza Il nostro cliente Si trascinò avanti a noi Fino alla porta d'ingresso Dove alzò il bastone E sferrò al battente Un colpo tale Da svegliare L'intero vicinato Se esso Fosse stato immerso Nel sonno E nello stesso tempo Strillando con petulanza Pip Pip Scratch Corri Svelto Si udì uno scalpiccio Frettoloso Dietro la porta Il rumore Di una sbarra Che veniva sollevata Una chiave Che girava nella toppa E la porta Si spalancò Rivelando un uomo Di media statura Che reggeva All'altezza Della sua testa Una torcera Con tre candele Portava pantaloni Al ginocchio Di panno nero Calze nere Una specie di giubba Di un nero verdastro Dalle cui maniche Spuntavano Polsini di pizzo E ai piedi Un paio di scarpe Con la fibbia Le sue spalle Erano curve E sul suo volto Aveva un'espressione Di rassegnata incertezza Così antica Che diventava parte Dei suoi lineamenti Gli acquosi Occhi azzurri Scrutarono Ansiosamente L'oscurità Finché non riconobbe Il suo padrone Allora Si fece da parte Con alacrità E alzò Ancora di più La torcera Così da rischiarirci Il passo Nell'oscuro vestibolo Niente strilli Ancora stasera Eh Pip? Non ancora signore Beh arriverà Arriverà Ci promise Il nostro cliente Passando davanti Al suo uomo Accendi il caminetto Nello studio Ci siederemo là Ad aspettare Venite signori Fra poco Avremo un bel fuoco Per scaldare Le nostre ossa E magari Un gocciolino Di sherry Pip Scratch Ci precedette Con passo elastico Proiettando avanti La luce Delle candele E facendo danzare Le ombre Dello studio Nel quale Il nostro cliente Ci introdusse Poi Appese la torcera Ad una parete Ed arretrò Davanti all'ordine Del suo padrone Il fuoco Pip Il fuoco E a noi Accomodatevi Signori E di nuovo A Pip Scratch E anche Un goccetto Di sherry Porta Ma sì L'ammontillado È il meglio Che posso offrire Ai miei ospiti Il servo Svanì Nelle tenebre Fuori dalla porta Ed io Essendomi ormai Abituato alla luce Vidi che la stanza Era tappezzata Di libri Su tre pareti Con l'esclusione Di quella affacciata La strada Che avevamo Appena percorsa Poiché Proprio lì Si aprivano Le due finestre A bovindo Che avevamo visto Dall'esterno Ognuna A un lato Del caminetto Quasi tutti Gli scaffali Erano protetti Da vetri Sui quali Ora si rifletteva La luce vacillante Delle candele Tornerà Tra un minuto Ci assicurò Il nostro cliente Non aveva Quasi finito Di parlare Che Pip Riapparve Portando Un candelabro A sette bracci E un vassoio Con una bottiglia Di ammontillado Che conteneva Stento abbastanza Sherry Per riempire a metà I bicchieri posati Accanto ad essa Il servo Depose ogni cosa Su un elegante tavolo Andò Sempre a passi frettolosi A prendere una candela Dalla torciera Sulla parete Per accendere Quelle del candelabro E avendo eseguito Tutto questo Col padrone Che osservava Ogni sua mossa In cupo silenzio Versò lo Sherry Che come io Avevo giudicato Ad occhio Non superò La metà Dei bicchierini Ma questo Chiaramente Fu approvato Dal signor Snowley Perché la sua Espressione Si addolcì Ciò fatto Pip uscì Frettolosamente Dalla stanza Bevete signori Disse il nostro cliente Piuttosto con area Di rimpianto Per il suo Buon vino Destinato a sparire Brindiamo Al nostro successo A qualunque Ora verrà Aggiunse Enigmaticamente Pons Alzando il bicchiere E mandò Giù lo Sherry Un sorsetto Alla volta Assaporandolo Ben bene Sulla lingua Era di ottima Qualità Anche se scarso Mentre bevevamo Pip Screcce Rientrò nello studio Col necessario Per accendere il fuoco E ben presto Quella stanza Parve allegra Con le fiamme Che salivano Sempre più alte Tutto intorno File e file Di libri Un armadio a vetro Chiuso con un lucchetto Buste Scatole E cartelle E abbastanza luce Per leggere Molti titoli In stragrande maggioranza Opere di Dickens In varie edizioni Le prime E le ultime Inglesi E straniere Più Un'imponente Letteratura critica E questi sono I suoi tesori Immagino Signor Snoli Disse Pons Possiedo La più bella Collezione Di Londra Dichiarò Il nostro cliente Beve Un sorso Di sherry Poi Aggiunse Di tutta L'Inghilterra E dopo Altri due Sorsi Anzi Del mondo Intero Oso dire Ma a questo punto Il suo sorriso Si spense Di colpo E il suo viso Si rabuiò C'è soltanto Un altro collezionista Il quale pretende Di averne una migliore Ma è una bugia Signor Pons Una vile bugia Perché lui Non può provare Quello che dice Ha visto Ha visto la sua collezione Domandò Pons No Né lui Ha visto la mia Lo conosce No E non desidero Farlo Pensi che mi ha scritto Tre volte In soli dieci giorni Guardi Ho qui Una delle sue lettere Apri un cassetto Del tavolo Vi infilò una mano E tirò fuori Un foglio Di carta semplice Con poche righe Scarabocchiate sopra Lo porse a Pons E io mi piegai Di lato Per leggere insieme a lui Al signor Ebenezer Snowley Egregio signore Ancora una volta La terza Prendo la penna Per chiederle Di vedere La sua collezione Di Kensiana Che mi dicono Potrebbe essere Pari alla mia La prego Di fissare una data Ed io sarò felice Di adattare I miei impegni Ad essa Distinti saluti Mika Ober Risale ad un mese fa Vedo Disse Pons Non gli ho risposto Dubito che l'avrei fatto Anche se avesse Accluso alla sua lettera Una busta affrancata Per lui Un francobollo Vale troppo Mentre beveva All'ultima stilla Di Sherry Pip Scratch Rientrò nello studio E senza una parola Indicò la strada Ah ah Esclamò il nostro cliente L'amico è arrivato Gli venga la sifilide Pip Spegni le candele Per un momento La luce si riflette Sui vetri delle finestre E noi invece Vogliamo dargli Una buona occhiata Pip Eseguì Lasciando lo studio Illuminato soltanto Dalla luce del caminetto Che gettava il suo bagliore Dal lato opposto Delle finestre a bovindo Verso le quali Si dirigeva ora Il signor Snouli Con ponza alle calcagne E per ultimo Il sottoscritto Eccolo là Disse Snouli Qual è il farabotto Quella canaglia Ora potevamo sentirlo Che suonava le sue campanelle E cantava con una voce stentoria La quale non era in verità Molto musicale Tutto al contrario Cantare non era la parola esatta Io avrei detto piuttosto Schiamazzare Di nuovo le noci Squitti il nostro cliente Con disgusto E infine lo vedemmo Un uomo piccolo Tarchiato Che quando arrivò Sotto la luce del lampione Si rivelò non meno individualista Di Snouli Perché indossava stivali al polpaccio Calzoni corti E una giubba che arrivava stento alla vita Mentre la sua testa era coronata Da un assurdo copricapo Sul quale si era ammucchiata Una notevole quantità di neve Portava anche una cesta con sé Presumibilmente per le sue noci Oltrepassò il lampione Strillando la bontà della sua merce E poi giro l'angolo Ora vedrete signori Arriva soltanto al confine della mia proprietà E poi torna indietro Quindi è soltanto a mio beneficio Che porta avanti Tutta questa buffonata Oppure al suo Osservò Pons In che senso? Domandò Snouli Piegandosi verso Pons Fin quasi a toccarlo Con la punta del naso Lievemente aquilino In tutta serietà Rispose Pons Non è lo Sherry che parla Ma non può essere a suo beneficio Protestò il nostro cliente Perché non gli ho mai comprato Nemmeno una noce Ne ho intenzione di farlo Pons rimase in silenzio Assorto Guardando il venditore ambulante E stiracchiandosi il lobo Dell'orecchio sinistro Come faceva sempre Quando era preoccupato Adesso che tutti noi tacevamo La voce ci arrivava a Chiara Malgrado la neve Che attutiva i suoni Andrà avanti così per ore Ringhiò il nostro anfitrione Con la faccia scura Arrossata dal bagliore delle fiamme Non devo avere più pace La polizia non farà niente Niente Ma non siamo noi a pagare i loro salari Certo che lo siamo Devo tollerare questa persecuzione E restarmene seduto con le mani in mano Mentre quella canaglia Mi fa rintronare le orecchie Ha visto come è vestito Domandò Pons Beh Non è certo all'ultima moda Rispose Snowley Sbuffando con aria sprezzante Tratteni una risata Perché l'uomo in strada Non era più fuori moda Del nostro cliente L'ho visto abbastanza per il momento Disse Pons Subito Snowley Si voltò gridando Pip Porta le candele E Pip Scratch Come se fosse stato in attesa Dietro le quinte Apparve seduta stante Col candeliere Che aveva portato via Per ordine del padrone Lo posò sul tavolo E subito uscì Signor Snowley Disse Pons Mentre tornavamo a sederci Il mio amico un po' girato In modo da poter ancora Volendo Guardare attraverso i vetri Immagino che lei continui Ad arricchire la sua collezione Molto cautamente signore Molto cautamente Ho tante cose che ormai Non so più dove mettere C'è molto poco in giro C'è molto poco in giro Molto poco Che io non abbia già E tanto ormai Se compro due o tre pezzi l'anno E qual è stato il suo ultimo acquisto? Gli occhi del nostro anfitrione Si strinsero sospettosamente Perché me lo chiede signor Pons? Perché desidero saperlo Al che Snowley si piegò verso Pons E disse con una voce insolitamente tenera per lui Quasi affettuosa È il pezzo più prezioso della mia collezione Un autentico manoscritto di Dickens E posso vederlo? Il nostro cliente si alzò Tirò fuori un mazzo di chiavi E si accostò all'armadio chiuso con lucchetto Che avevo già notato in precedenza Lo aprì Prese al suo interno una scatola Che sembrava debano intarsiato d'avorio E la portò sul tavolo Apri anche questa con una chiavetta E tirò fuori il manoscritto Chiuso in una cartella Infine lo posò davanti a Pons Quasi con reverenza E fece un passo indietro Per osservare il mio amico Con quello speciale orgoglio del possesso Che invariabilmente anima il collezionista Pons aprì la cartella Il manoscritto era ingiallito dagli anni Ma la carta era evidentemente di buona qualità In cima si leggeva L'orologio di Mastro Humphrey Poi la firma di Charles Dickens Meticolosamente sotto il titolo E più in basso Nella stessa calligrafia Cominciava il testo del manoscritto Che consisteva di almeno Una dozzina di pagine Ah È quel capitolo della bottega dell'antiquario Che è stato escluso Dalle versioni pubblicate del romanzo Disse Pons Lo conosce signor Pons Esclamò Snowley con gioia evidente Certo E riconosco la calligrafia Davvero? Il nostro cliente si fregò le mani Deliziato Dove l'ha acquistato? Snowley gli strizzò un occhio Mi è stato offerto da un gentiluomo In ristrettezze economiche Il quale aveva bisogno di contante È successo poco più di un mese e mezzo fa Ma guarda Commentò Pons Dunque è stato un buon affare Oh eccellente Eccellente Le circostanze erano a mio vantaggio Chiedeva 500 sterline Una cifra ridicola Capisco E lei di quanto è riuscito a ribassarla? Gli affari sono affari signor Pons L'ho avuto per 200 Ma guarda Pons prese un foglio E lo alzò contro la luce delle candele Attento signore per carità Disse Snowley nervosamente Pons abbassò il foglio L'ha fatto autenticare? Autenticare? Signore Io sono un'autorità su Dickens Perché dovrei pagare un esperto Per farmi dire quello che so già? Questa è la calligrafia di Dickens Non c'è dubbio Possiedo parecchie lettere sue Con cui confrontarla Non c'è un puntino su una I Che non sia fatto come li faceva Dickens Né una T tagliata diversamente Da come le tagliava lui? Da come le tagliava lui? Queste pagine sono scritte di suo pugno Parola per parola Lettera per lettera Un po' offeso Snowley raccolse il suo tesoro Rimettendolo nella scatola E poi nell'armadio Mentre tornava alla sua sedia Ricordò a Pons Ma lei non è venuto qui per vedere la mia collezione C'è quel furfante là fuori Come intende affrontarlo? Ma propongo di invitarlo a cena Rispose Pons Non più tardi di domani La sera della vigilia E naturalmente è qui In casa sua La mascella di Snowley cadde Certo lei sta scherzando Disse con voce strangolata La cometa è in arrivo signor Snowley Mostriamo un po' di spirito natalizio Non festeggio io il Natale Figuriamoci se posso permettermi Di invitare dei fannulloni Protestò stiziosamente Snowley E meno di tutti quella canaglia là fuori E' uno scherzo sciocco e inopportuno Non è uno scherzo signor Snowley Gli occhi di Pons scintillavano ora Ne ho abbastanza Ringhiò il nostro cliente Alzandosi in piedi come per congedarci O la cena Disse Pons inesorabile O il mio compenso Ebbene dica la cifra Perché io non accoglierò alla mia tavola Quel vagabondo d'inferno Dichiarò Snowley alzando la voce Pons lo guardò freddamente Cinquecento sterline Cinquecento sterline Balbettò Snowley Duro come un diamante Pons annuì ed incrociò le braccia sul petto Il nostro cliente si piegò in avanti E strinse il bordo del tavolo come se stesse per cadere Cinquecento sterline Ma è un ladrocigno Cinquecento sterline Restò così per un minuto Mentre Pons non batteva un ciglio Poi un'espressione astuta Apparve nei suoi occhi socchiusi Mosse le labbra in fuori e in dentro Come era a sua abitudine E girò la testa per guardare direttamente Pons Lei ha detto Fece ancora in un bisbiglio Cinquecento sterline O una cena Per quattro Noi tre E il baccaglione là fuori Confermò Pons Certo sarebbe meno costoso Ammise il nostro cliente Leccandosi le labbra Molto meno costoso Specialmente perché sarò io A fornire l'oca Disse Pons Con perfetto sour fare Venduto Esclamò Snowley Come se avesse improvvisamente Invertito le parti In un cattivo affare Venduto Venduto Ma siccome sta ancora lavorando per me Lascio a lei il compito di invitarlo Perché io non lo farò Cena alle sette Signor Snowley Il nostro anfitrione Annui bruscamente Come preferisce Benissimo allora Manderò l'oca in mattinata E non ci sarà nessun'altra spesa Signor Pons Ho capito bene vero E si occuperà lei di quel tipo Insistette Accennando verso la strada Oso dire che non avrà più fastidi Dopo la cena di domani sera Dichiarò Pons Benissimo Dato che non le devo nient'altro Non se ne avrà male Se non le riaccompagno in carrozza C'è una stazione della metropolitana A poca distanza Prenderemo quella Prenderemo quella Disse Pons Snowley ci scortò alla porta Con la torciera in mano Sulla soglia Pons si fermò Deve essere una cena come Dio comanda Signor Snowley Disse Ci vorranno patate Legumi Salsa Frutta Insalata verde Pudding di Natale Ah E' un po' di quella Montiado Il nostro cliente Sospirò con rassegnazione Sarà fatto Anche se forse lo ribiangerò Chissà Disse Pons allegramente Buonasera signore E tutti i miei migliori auguri Fandonie Nient'altro che Fandonie Percorremo il viale d'accesso Sotto una neve ora molto meno fitta E aspettamo sul marciapiede Finché l'oggetto delle ire del nostro cliente Girò l'angolo Era un tipo tarchiato Con la pancetta Guance color ciliegia Il naso di un rosso un po' scuro Occhietti allegri che guardavano fuori Da due rotolini di grasso Mentre si avvicinava Fece finta di non vederci Finché Pons gli si parò davanti Zittendo gli orrendi strilli Con cui vantava la bontà delle sue noci Buonasera signor Oper L'uomo fece un passo indietro Scrutando Pons Io non la conosco signore Disse Ma è il signor Oper vero? Il signor mica Oper L'altro annui esitante Il signore Beniza Snoli Ambirebbe averla a cena domani sera alle sette Per un lungo momento Oper fissò Pons a bocca spalancata Dio benedica la mia anima Esclamò ritrovando la voce Allora mi conosceva? No Rispose Pons Ma chi altri poteva fare la ronda qui intorno Fingendo di essere un venditore ambulante Se non mica Oper Sul chi vive nel caso che succeda qualcosa Dio benedica davvero la mia anima Disse di nuovo Oper fervidamente Ci incontreremo alla porta signor Oper Ed entreremo insieme Disse Pons prima di congedarsi Buonasera Ci sarò Assicurò Oper Ah La smetta con quelle grida Aggiunse Pons Al di sopra di una spalla Ci allontanammo lungo la strada E Oper Come vidi guardando indietro Corse via nella direzione opposta In silenzio Ci affrettammo attraverso la neve Gran parte di essa si era sciolta Poiché la serata era abbastanza tiepida E i fiocchi si dissolvevano Sui nostri cappotti E fu soltanto quando ci trovamo seduti Nella metropolitana Diretti al nostro quartiere Che ebbi l'opportunità di parlare Come ha capito che quel tizio Era mica Oper Gli domandai Via Parker È la deduzione più elementare del mondo mi pare Rifletta I valori di Snowley consistono nella sua collezione Che riguarda soprattutto Dickens Il nostro cliente ha acquistato il suo più recente tesoro Poco più di sei settimane fa Nei quindici giorni seguenti Mika Oper scrive chiedendo di vedere la sua collezione Non avendo ricevuto risposta E valutando rettamente Il carattere di Snowley Con l'indagine o l'osservazione Forse con entrambe Oper ha adottato questo insolito metodo Di attirare la sua attenzione Il suo scopo è entrare in quella casa E dare un'occhiata alla collezione Non c'è dubbio Ma mi sembra tutto molto tortuoso Esclamai Credo che Snowley stesso sia un tipo abbastanza tortuoso Anche se non quanto questo Oper Tutti i collezionisti sono un po' matti E alcuni più degli altri Quei due sono certamente una coppia unica Anche per gli standard Dickensiani Ma come poteva sapere Oper Che Snowley aveva comprato quel manoscritto Immagino sia stato perché Snowley Ha strombazzato in giro Di possedere la più grande collezione su Dickens di Londra Del mondo Precisai E perché il manoscritto È stato indubbiamente rubato ad Oper Finì Pons Da qui la sua insistenza Credo che avremo Una cena molto piacevole Domani sera L'indomani Pons Dedicò alcune ore a scartabellare La biblioteca di Kensiana E a fare un paio di telefonate Continuava a pensare con piacere alla serata E di tanto in tanto canticchiava Cosa insolita per lui E che mostrava l'intensità delle sue aspettative Uscimmo per tempo E raggiungemmo la casa di Ebenezer Snowley Alle sette meno un quarto Ma mica Oper Ci aveva preceduti Ci eravamo appena fermati davanti alla porta di Snowley Che sbucò fuori da un gruppetto di tassi Su un lato del viale d'accesso Dove senza dubbio Si era nascosto in attesa del nostro arrivo Venne verso di noi saltellando E ci raggiunse con il fiato un po' corto Era in abito da sera E alla luce della luna Cui mancava solo un giorno per essere piena Vedemmo che la sua tenuta era tanto antiquata Quanto quella che il nostro cliente indossava il giorno prima Oh buonasera signor Oper Lo salutò Ponce Vedo con piacere che non è in ritardo Per quella che confido sarà Un'ottima cena Io non ne sarei così sicuro Il vecchio Snowley è economo Molto economo Disse Oper Ponce ridacchiò Ma non credo signore Che tra noi ci sia stata una presentazione in regola Osservò Oper Ha ragione Disse Ponce Il mio amico è il dottor Lyndon Parker E io sono Solar Ponce Oper rispose a entrambe le presentazioni Con un rapido inchino Poi aggrottò la fronte Solar Ponce ha detto Assaporò il nome Guardando il mio amico a occhi soppiusi Poi aggiunse Io ho una conoscenza di Londra Che oso definire estesa e fuori dal comune Ho già sentito il suo nome Mi dia un momento e mi tornerà in mente Ah già l'investigatore Bene bene Un incontro molto opportuno signore In realtà Ho bisogno dei suoi servigi Mi è stato rubato un prezioso manoscritto E ho ragione di credere che ora Si trovi nelle mani del nostro anfitrione Un tesoro signore Un raro tesoro Vedremo signor Oper Vedremo Disse Ponce Pagherò qualsiasi somma ragionevole per riaverlo signor Ponce Qualsiasi somma ragionevole Ponce afferrò il batacchio E diede alcuni colpi decisi Quasi immediatamente Si levò la voce di Snow PIP 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 La porta Devono essere arrivati i signori Sentimmo PIP Scratch attraversare il vestibolo Poi la porta venne spalancata L'unica concessione alla circostanza Era una torcera con sette candele invece di tre Buon Natale PIP Grazie signore Molti auguri anche a voi signori Rispose PIP in un bisbiglio astento percepibile Come se avesse paura che il suo padrone potesse sentirlo Entrate e facciamola finita Gridò Snowley dallo studio Il tavolo era apparecchiato in quella stanza E i bicchieri di Sherry erano pieni fino all'orlo Snowley era in piedi ad un'estremità Con una lunga giacca a doppio petto E una larga cravatta nera ad orna di una spilla Ma era imbronciato come sempre E i suoi occhi sembravano ancora più stretti del solito Mentre sfioravano appena Ponce Per fissarsi su Ober con aperta antipatia Signor Snowley Disse Ponce accennando all'altro collezionista Mi permetta di presentarle il suo amico dalla voce gagliarda Una voce non fatta per cantare Interloqui il nostro cliente Il signor Ober Finì Ponce Snowley arretrò come se qualcuno l'avesse colpito Mica Ober In persona Disse Ober inchinandosi Così che la sua calvizie brillò alla luce delle candele E nello stesso tempo Tirando fuori un monocolo appeso ad un cordoncino nero Che si incostrò in un occhio Per osservare il nostro cliente Il quale era troppo scioccato per riuscire a spiccicare parola Mi ha fatto l'onore di invitarmi a cena finalmente Tutto quello che Snowley riuscì a pensare in quella spiacevole circostanza fu Per risparmiare 500 sterline Una ragione buona come un'altra Rispose urbanamente Ober A questo punto Pip Scratch fece la sua apparizione Reggendo un largo piatto di portata Sul quale riposava l'oca Che Ponce aveva inviato il mattino Fumante, dorata E arrostita a puntino Pip la posò sul tavolo E si dispose immediatamente a trinciarla Mentre il nostro anfitrione Riprendendo il controllo di sé Anche se con un'espressione apertamente acida Ci fece cenno di accomodarci Ponce prese il suo bicchiere di ammontigliado E lo levò in alto Brindiamo al successo di ogni vostra impresa, signori Evviva! Disse Ober E un felice Natale Fandonie Strillò Snoli Non parli così, signor Snoli Disse Ober Il Natale è un'occasione molto utile Utile? E a chi di grazia? Ma a tutti noi, signor Snoli Rispose Ober con vivacità È il momento in cui la nostra preveggenza e perseveranza Ricevono il loro premio E io dico di nuovo Fandonie Se fosse per me Farei bollire nel suo pudding Ogni stolto che festeggia il Natale Le ci vuole un altro po' di sherry, signor Snoli Avanti Questa cena non le sarà poi costata un patrimonio E andammo avanti così Con due collezionisti che si scambiavano parole pungenti Poi un po' meno tali E infine quasi affabili Grazie anche al vino che Pons continuava a versare L'oca fu mangiata di gusto Così come la salsa Le patate, le carote La frutta e l'insalata verde Tutto a suo tempo e con calma Ed infine apparve il pudding di Natale Portato in tavola a fiammeggiante Intanto il tempo passava Suonarono le otto Le nove Ed erano le dieci Quando arrivamo al brandy e al caffè Con Snoli e Ober di buon umore E Pip Scratch Che aveva sgomberato la tavola ad ogni cosa Salvo le tazze e i bicchieri a boccia Si era seduto lui pure nello studio A una certa distanza Ma anche egli parte della compagnia Fu allora che Ober Giudicandolo il momento giusto Disse al nostro cliente Ed ora se non ha niente in contrario Mi piacerebbe ammirare la sua collezione Signor Snoli Lo credo che le piacerebbe Rispose Snoli È la più bella del mondo Questo lo dice lei Aspetto di sentirlo anche dalla sua voce Ober sorrise socchiudendo gli occhi Se ci tiene tanto Va bene È la più bella del mondo Udite udite Gridò Snoli Poi si alzò Un po' incerto sulle gambe E si avvicinò agli scaffali coi libri Seguito come un'ombra dal fedele Pip Mentre Ober Non gli staccava gli occhi di dosso Come se temesse che il vecchio avaro E la sua collezione Potessero sfuggirgli dopo tutto Snoli aprì l'armadio a vetri Forse un paio di libri a Pip E ne tenne uno lui stesso Poi tornò da noi E li posò sul tavolo uno per uno Amorosamente Erano copie con dedica di David Copperfield Edwin Drude E il circolo Pequic Dopo che Ober le ebbe debitamente E profusamente ammirate Il nostro cliente tornò all'armadio Portandoci questa volta i numeri Della Monthly Review Che contenevano gli sketches by Bose Con correzioni di pugno Dello stesso Dickens Pip manteneva vivo Il fuoco nel caminetto Dividendosi tra questo compito E la lacra e servizio del suo padrone Così che era continuamente occupato Avanti e indietro Su e giù Con la vampa del fuoco Che danzava sulle sue mani E sul suo volto ossuto E le fiammelle delle candele Che balzavano in alto E si spegnevano Riempiendo la stanza Di ombre grottesche Mentre noi quattro Ci chinavamo su un tesoro dopo l'altro E la lancetta più piccola Dell'orologio a pendolo Strisciava dalle dieci alle undici E poi verso mezzanotte Un corteo di libri e carte Passò dall'armadio a vetri Al tavolo E di nuovo all'armadio a vetri Lettere autografe di Dickens Lettere a Dickens Dai suoi editori Vecchi disegni di personaggi Dickensiani Firmati Kruik, Shank e Fitz Oliver Twist Fajin Il signor Bumble La piccola Amy Dorrit Seth Pecksniff Sam Weller Samuel Pickwick E molti altri Così che era molto tardi Quando finalmente Snow Lee Andò a prendere il suo ultimo acquisto E posò anche quello sul tavolo E questa signor Ober È la gemma Della mia collezione Annunciò Fece per alzare la copertina Ma improvvisamente Ober allungò un braccio E la tenne giù Snow Lee arretrò un poco Ma senza togliere le mani Dal suo tesoro Lasci che le dica Di che cosa si tratta Signor Snow Lee Fece Ober È un manoscritto Di pugno di Dickens Intitolato L'orologio di Mastro Humphrey Che in origine Faceva parte Della bottega Dell'antiquario Ma non fu inserito Nella versione stampata Dell'opera Consiste di Quattordici pagine e mezzo Con la firma di Dickens Sulla prima Sotto il titolo Snow Lee lo guardò A occhi sgranati I colmi d'allarme Come fa a saperlo Signor Ober Lo so perché Mi è stato rubato Due mesi fa Con un grido di rabbia Snow Lee strappò In manoscritto Da sotto la mano di Ober È mio Urlò L'ho comprato Per quanto? Duecento sterline Esattamente la somma Che ho pagato io Un anno fa Non lo avrà Ringhiò Snow Lee Invece intendo Invece intendo averlo Forse Non verrà chiesto L'adempimento Lei parla sempre Per enigmi Disse stiziosamente Snow Lee Porgendogli Manoscritto Pons lo prese Apri la cartella E sollevò il primo foglio Quello con la firma Di Dickens Poi lo restituì a Snow Lee Per cortesia Signor Snow Lee Lo guardi in controluce E ci descriva la filigrana Disse Il nostro cliente Alzò il foglio Davanti alle candele Dopo averlo studiato Per qualche minuto Mormorò In tono esitante È una rosa Su uno stelo Mi pare Nient'altro Signor Snow Lee No no Ora vedo che ci sono Anche tre lettere Molto piccole Alla base dello stelo KTC Pons tese la mano Per riavere la pagina Ne prese un'altra E porse questa ad Ober La esamini per favore A sua volta Ober L'alzò davanti alle candele Sì Non si è sbagliato Signor Snow Lee È proprio una rosa Di grande delicatezza E le lettere sono Chiarissime KTC È la filigrana Di Kennaway Tegui & Company Di Algate Disse Pons Se li conosco Intervenne Snow Lee Una ditta Molto stimata Il cui anno di fondazione È il 1871 Continuò il mio amico Mentre Charles Dickens È morto L'8 giugno Del 1870 Per un momento Di gelido orrore I due collezionisti Non emisero un suono Poi Non è possibile Proruppe il nostro cliente Non parla sul serio Fece ecco Ober La filigrana non può mentire Signori Disse Pons seccamente Ma ahimè La calligrafia sì Io l'ho comprato in buona fede Io l'ho comprato in buona fede Disse Ober Inorridito E gliel'hanno anche rubato In buona fede Osservò Pons Con una risatina Ma è stato un commerciante Di ottima reputazione A vendermelo Protestò Ober La bottega di Jason Brompton In Edgeworth Street Disse Pons Però lei non ha trattato Con Brompton in persona Bensì Con il suo assistente Non è così? Ober Lo fissò sbalordito Come lo sa? C'è una sola persona A Londra Che abbia l'abilità E la pazienza Di falsificare Quel manoscritto Il suo nome È Dennis Golgers Maledetto Lo denuncerò Esclamò Ober Oh Temo che non sia possibile Il signor Golgers Ha lasciato Il suo impiego Da Brompton Il gennaio scorso E ora è al servizio Di sua maestà Vedrò cosa posso fare In merito Ma non conti troppo Sul mio successo Snowley si lasciò cadere Sulla sedia Ober Fece lo stesso Pips Cratch Avanzò silenziosamente E versò ad entrambi Un po' di sherry Suonò la mezzanotte È Natale signori Disse Pons Credo sia tempo Che vi lasciamo Ora che avete avuto Un brutto colpo In comune Forse troverete Di che consolarvi Insieme Su quegli scaffali Anche i collezionisti Devono correggere L'adulterato Con l'autentico Snowley Alzò la testa Ha ragione Signor Pons Pip Pip Berciò come Se Pip Scratch Non fosse stato Dietro la sua sedia Mettiti il cappotto E tira fuori La carrozza Voglio che Riaccompagni a casa Questi signori Il nostro cliente E il suo ospite Ci scortarono Fino alla porta E ci guardarono Salire sulla carrozza Che Pip Scratch Aveva portato fuori Dalla rimessa Di nuovo Buon Natale signori Disse Pons Sporgendosi Dal finestrino Mi bruceranno Le labbra Disse Snowley Con una parvenza Di sorriso Ma Buon Natale Dottor Parker Buon Natale Signor Pons Quindi I due collezionisti Si voltarono E sotto braccio Un po' malfermi Sulle gambe Rientrarono in casa Un Natale raro Mio caro Parker Davvero raro Disse Pons In tono sognante Mentre trottavamo Verso il nostro quartiere Lungo le buie strade Londinesi Sulla vecchia carrozzella Del nostro cliente Non credo che ne avremo mai Un altro simile Con Venni Non neghiamoci di sperarlo Parker Disse Pons Poi Si voltò verso di me E mi guardò Con aria interrogativa Non ha guardato L'orologio Un po' troppo spesso E con una certa apprensione Durante l'ultima mezz'ora Parker È vero Pons Ma temevo Anzi ero convinto Che quei tre sarebbero svaniti Allo scoccare della mezzanotte Gli audio racconti Serie I gialli di Natale Solar Pons E l'avventura Dei due collezionisti Di August Derlet Letto Dada Dada Grazie a tutti.